Cari amici, questo video non era previsto, ma poi come si fa a non fare un video quando la realtà supera la fantasia? Piccolo inciso, intanto la Repubblica cieca opza per non avere l'obbligo vaccinale, anche la Repubblica cieca. Ma ciò che conta, e udite udite, 14, dicessi 14, avete capito benissimo, 14 calciatori del Venezia Calcio, tutti vaccinati, tutti vaccinati, tutti vaccinati, si beccano il Covid e sono positivi. 14 su 14, possiamo ridere, perché tra l'altro stanno benissimo naturalmente, ma hanno comunque il Covid, sono positivi, stanno benissimo, non hanno nessun problema, nessuna problematica, ma sono positivi. E stiamo parlando di 14 su 14 tutti vaccinati. E più di così non si può dire niente, non si può aggiungere niente. Vedete perché Mattarella scappa, scappa, scappa a vita privata, si ritira a vita privata. Vedete perché Draghi scappa, scappa, scappa e cerca di raggiungere la Presidenza della Repubblica, convinto che il capo dello Stato poi non lo tocchi nessuno. E vedete, scappano, scappano, scappano. Quando la realtà supera la fantasia, quando la realtà supera la fantasia, i poveri idioti come Pregliasco, quelli non riusciranno a scappare, quelli non potranno scappare. E quelli di Riffa o di Raffa pagheranno e pagheranno pesantemente. 14 su 14 calciatori del Venezia. Vediamo questa notizia, come passerà. Andrebbero intervistati giorno e notte, naturalmente non lo saranno. Ma noi sorridiamo, sorridiamo perché la disclosure è anche questo. E perché i nodi stanno venendo al pettine. I nodi stanno venendo al pettine. E poi parleremo anche dei sindacati vigliacchi e vili. Dei giornalisti che sono stati comprati ancora recentemente, recentissimamente. Perché il governo Draghi, che non ha la capacità di aiutare gli italiani di fronte allo scoppio delle bollette energetiche. Invece i soldi per comprarsi tutta l'editoria e per dare degli aiuti ad cazzum, ad minchiam, al sistema informativo li trova e come. E poi questi vedete che ricambiano il favore. Ma è tutto finito, è tutto finito, è tutto positivo, è tutto positivo come sono positivi i 14 calciatori del Venezia. Giorgio Riccardin, il canale storico. Giorgio Riccardin 2, il canale muletto che presto sarà utile. E su Telegram Giorgio Riccardin. Tutto sta emergendo, tutto sta emergendo, tutto sta emergendo. Velocemente e rapidamente. E pregliasco ha molto da temere. Un bel processo, un bel processo, un bel processo.